Però io ho prodotto degli atti amministrativi, ho dimostrato che non si può fare una tendopoli in centro alla città, quindi contestando l'idoneità igienico-sanitaria di questo campeggio e mettendo un'ordinanza per inventare la possibilità di campeggiare in centro, dimostrando con l'ARPA e gli altri enti che non si possono mettere delle persone sotto una tendopoli in un'area che non ha la destinazione urbanistica corretta. Quindi ho fatto la mia battaglia da sindaco, che peraltro, devo dire la verità, ho anche vinto perché ieri il prefetto Morcone mi ha dichiarato che la tendopoli verrà chiusa tra qualche giorno e queste persone verranno spostate da altre parti, quindi ho fatto il mio dovere da sindaco. Poi il tema a livello nazionale lo conosciamo tutti, non siamo in grado di contenere questa spinta che viene dal Nord Africa quando andiamo a prenderli direttamente sulle coste del Nord Africa, quindi io trovo la politica del governo una politica scelerata che poi dà la responsabilità a tutta quanta i sindaci, perché non possiamo trovarci noi sindaci, ultima ruota del caso della pubblica amministrazione a dover risolvere i problemi dell'Imu. Allora, Renzi parlava di tagliare l'Imu, allora mi spieghi Renzi come fa a tagliare l'Imu se l'Imu è un'entrata dei comuni? Sì, ma adesso stiamo aspettando che ce lo spieghi il Premier. Bitonci a proposito... Sui profughi, sui profughi e clandestini si scarica sempre sui sindaci la responsabilità che certamente non è dell'ente locale perché spiegavo, e lui mi ha dato ragione, che allora nel testo unico degli enti locali inseriscano tra le funzioni dei sindaci anche la gestione dei clandestini, perché non si può dare delle funzioni ai sindaci e dopo scaricargli tutta una serie di responsabilità quando non si è in grado di gestire i problemi.